Il partito popolare europeo resta in testa anche se si riduce lo scarto con i socialdemocratici. Stando a questa nuova proiezione data dal Parlamento europeo stamani, i popolari avrebbero 212 seggi, 61 in meno rispetto alla scorsa legislatura, i socialisti ne avrebbero 187, 9 in meno. Risultato che ha legittimato il candidato popolare a chiedere la presidenza della Commissione. L'ex premier del Lussemburgo, nonché ex guida dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, è politico europeo di vecchia data. Nelle prossime settimane dovremo discutere non solo di posti, ma dovremo discutere in profondità. E sono pronto a farlo con i socialisti perché non c'è altra maggioranza al di là della cosiddetta grande coalizione. Bisognerà vedere se il candidato socialista alla Commissione, Martin Schulz, è disposto a fare un passo indietro e a scendere a compromessi, come ha dichiarato Juncker. I negoziati per la presidenza della Commissione comunque sono già iniziati. Il presidente sarà designato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo che terrà conto del voto di oggi. Il Parlamento di Strasburgo è chiamato poi a confermare questa nomina con un voto a maggioranza assoluta.